Proseguono gli incontri del tavolo tecnico per il dragaggio del porto di Termoli. Si è infatti tenuta presso la Capitaneria di Porto una nuova riunione finalizzata a definire il percorso da seguire per scavare i fondali nel bacino portuale termolese. All'incontro in Capitaneria c'erano il comandante Antonio Nasti, l'assessore regionale Pierpaolo Nanni, l'assessore comunale Vincenzo Sabella e la dirigente regionale Anna Di Lallo. Un intervento che attende di essere realizzato da oltre dieci anni e che speriamo di poter concretizzare, ha dichiarato l'assessore Pierpaolo Nanni. Siamo attualmente in una fase di confronto tra tutti gli attori interessati e l'impegno assunto dalla regione Molise è stato quello di verificare le varie possibilità per dare avvio ai lavori di ripulitura dei fondali in modo da poter garantire, ha detto l'assessore Nanni, ai pescatori un accesso più facile alla struttura, il tutto in un quadro di stretta e fattiva sinergia con le Capitaneria di Porto di Termoli. Grazie a tutti.